Qual è il messaggio che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento vuole dare per questo Festival dell'Economia? Innanzitutto un messaggio di saluto a tutti coloro che anche quest'anno sono interessati al Festival dell'Economia e anche di augurio e di speranza perché il Festival dell'Economia comunque sia questo momento particolare che stiamo vivendo si terrà. Ovviamente si terrà con modalità diverse rispetto alle quali i nostri affezionati cultori del Festival dell'Economia sono abituati. Purtroppo non possiamo fare gli eventi in presenza per i motivi facilmente comprensibili del rischio epidemico che c'è purtroppo ancora anche nel nostro territorio ma lo vogliamo comunque fare perché crediamo che la forte vocazione che il Festival dell'Economia ha nel portare idee, nel portare progetti, nel portare pensieri nel portare anche speranza magari in questa edizione sia principale. E quindi nonostante questa situazione il Festival dell'Economia si farà. E ovviamente si farà sui temi che si discutono. Il tema principale che avevamo pensato prima del Covid era un tema legato all'ambiente. Oggi il tema rimane però ovviamente si parlerà anche degli effetti che la crisi che c'è stata avrà sull'economia. E quindi tutti i nostri relatori importanti nazionali e internazionali dibatteranno su questa tematica. Cosa ha portato di negativo? E questo lo vedremo nei prossimi mesi il Covid. E quindi qui ci riferiamo ai numeri macroeconomici che abbiamo con i previsionali oggi. E vedremo se quelli consultivi dimostreranno questa crisi creata dal Covid. Ovviamente speriamo il meno possibile anche se sappiamo che comunque si tratterà di numeri negativi. Ma poi credo che dobbiamo parlare anche di cosa dobbiamo imparare da questo Covid per la giusta ripartenza che le nostre economie devono avere. E quindi la capacità di mettersi in moto il prima possibile, di velocizzare gli investimenti, di fare girare le idee. E credo che chi sarà ovviamente primo rispetto ad altri in questo settore sarà colui che prima riuscirà ad abbracciare la ripartenza. Auspicando noi tutti ovviamente che la crisi epidemiologica finisca e che si torni a parlare solamente di economia senza il freno dovuto alle situazioni che abbiamo vissuto. Quindi da parte mia un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando e lavorano per il Festival dell'Economia nonostante questa situazione e mi sento di dire buon ascolto, buon divertimento perché per tanti è un divertimento il Festival dell'Economia, ascoltare le tante idee e credo anche un motivo di imparare cose nuove e idee nuove. Grazie. Grazie.